Riapre l'antico rettilario dello Zoo di Napoli dopo un'attenta ristrutturazione del fedele ripristino della struttura originaria edificata nel 1940 per la stessa destinazione finale ma abbandonata da vent'anni ad un lento degrado. Fu l'architetto Luigi Piccinato a progettare all'interno dell'area destinata a giardino zoologico le strutture oggi tutelate dalla sovrintendenza, come sottolinea il direttore Alessandro Bizzarro. È una fase importante, è un traguardo importante per lo Zoo di Napoli perché dopo circa vent'anni si apre il rettilario dello Zoo di Napoli avendo effettuato un'opera di ristrutturazione nonché di ripristino dello stato dei luoghi in quanto generalmente tutta l'area dello Zoo di Napoli è vincolata per cui man mano che noi riceviamo il parere della sovrintendenza ovviamente ristrutturiamo quelle che sono tutte le aree e gli exibit preposti per gli animali esistenti nello Zoo di Napoli. Il progetto del nuovo Zoo di Napoli non si è mai fermato giungendo oggi ad un importante traguardo tra i tanti in programma infatti lo Zoo oltre ad essere aperto tutti i giorni compresa la domenica dalle 9 al tramonto nonostante i lavori in corso sta attuando una trasformazione impegnativa degli 80.000 metri quadrati tesi a renderlo il luogo ideale per le famiglie dove trascorrere il tempo libero grazie anche alla lussureggiante vegetazione in parte esotica. Praticamente abbiamo varie specie di serpenti, anaconda, pitone, boa e una bellissima coppia di guanari-nuceronte che è nella vasca oggi attualmente del futuro nuovo arrivo che sarà il coccotillo che dopo 20 anni arriverà di nuovo allo Zoo di Napoli.